Stadio Sant'Elia di Cagliari, ventiduesima giornata di Serie A, la terza di ritorno, Cagliari-Roma, amici di Televadiostereo, buonasera e bentrovati da Gabriele Ziantoni e Max Donetto. One, two, three, four! Maingolano recupera un pallone in maniera regolare su Epidallo di parte da Roma, proprio con Verde, produzione centrale quasi da centravanti, va appunto Verde a calciare! La lotta sulla traversa di un niente, primi squilli anche di Verde. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, sbaglia però il rinvio trovando Keita che vuole pari dottorazola, ancora Keita al limite, Keita la gira per Verde, Verde è solo, Verde, Verde! Esterno della rete! Sulla tavola da Leoni, tra campioni e campionatori, Pjanic va dritto da Lijic, al limite per Verde, tocco sotto per Lijic! Rete! 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 Adam Lijic, che giocata di verde! E poi Lijic, davvero la pace dell'aria di rigore, ci porta in vantaggio al trentasettesimo e dodici! Cagliari zero, Roma uno, Adam Lijic! Sì, uno due fantastico al limite dell'area, con Lijic che serve Verde e poi va in profondità, a sua volta con un palonetto rimette Lijic davanti al portiere, a quel punto è un gioco da ragazzi, metterla alle spalle di Berkic con un tocco alto! Riparte il Cagliari da Ragnale e Conti con Joao Pedro che va in profondità, saltando anche Olebas con la fronte, la sposta per lo stesso Ciopp, era di rigore! Ciopp, De Santis! Che parata su Ciopp! Sta fuori questa palla con la testa da Pjanic, poi Sanabria salta Avelar e punta la porta avversaria, siamo quattro contro due, scatta anche Torosidis, palla per lui contro Donzà, si allarga Torosidis che chiude invece il cross per Verde che fa la conclusione col Mancino! Perchè c'è in angolo? Spera che è fatta in verticale, Verde con un mancino dentro, palla che passa, Paredes va a calciare! Rete! 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 Paredes! Leo Paredes! Cagliari 0, Roma 2, che conclusione di Paredes, una volée che impatta dalla parte opposta sul palo e finisce in fondo al sacco al 39esimo e 28, gol di Paredes! E probabilmente finisce anche la partita, grande azione ancora una volta di Verde su questa fascia, la prima di questo secondo tempo con Cross a seguire sul secondo palo, Paredes che è al limite dell'area, lascia partire un gran bel tiro desterno destro, la palla che tocca il palo imparabile alla destra di Verde. Ma come si è coordinato ragazzi, ci ha messo un mese ad entrare in porta questo pallone! Paredes per Pjanic, invece non c'è più tempo, non c'è più tempo perché vibra il fischietto di Paolo Tagliavento di Terni che dice basta così, tutti nel tunnel, la Roma e Spugna Cagliari! Bye!